Ciao a tutti, sono Claudio De Blasis, vengo da Roma, sono l'application chef della Linux. Sono arrivato qui a Rimini alla Gifar e mi aspettavo sinceramente tutta questa affluenza di pasticceri, i miei colleghi, per andare a vedere quello che cosa siamo andati a realizzare oggi con la nuova tecnologia Linux, a partire dal mio a arrivare fino a Naboo. Quindi abbiamo prodotto panettoni, croissante, crostate, vignette, quanto ciò che vedete qui nella carrellata e abbiamo usato tutta una tecnologia differente dal vecchio che era, quindi abbiamo fatto delle cotture in multilivello, abbiamo fatto delle cotture in piano carico, i miei colleghi sono tutti contenti perché non hanno mai visto niente di simile, non hanno mai visto un'uniformità di cottura in piano carico, non hanno mai visto una lievitazione e cottura di un panettone per poi riandarlo a abbattere e rigenerarlo, quindi abbrichiamo i tempi e risolviamo parecchi problemi nei nostri laboratori. Un grazie a tutti, grazie ancora da GIFAR, grazie ai miei colleghi, ciao ciao a tutti.